Per tutti, si sta segretamente innamorando di te? 7 segni nascosti da cercare. In questo video voglio farti capire quali sono 7 segni nascosti da cercare per capire, per capire se si sta innamorando di te. Quali sono 7 segni nascosti da cercare? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere, potrai partecipare ad apposite live mirate e partecipando ad apposite live mirate potrai ottenere, diciamo così, delle risposte precise alle tue domande. Quindi adesso vediamo, si sta segretamente innamorando di te, 7 segni nascosti da cercare. Quali sono 7 segni nascosti che ti fanno capire che si sta veramente innamorando di te? E' importante cogliere questi segnali perché altrimenti non ti renderai conto. Comunque il linguaggio del corpo, la fisiologia, il comportamento di un uomo possono rivelare, diciamo, come si sente nei tuoi confronti prima che sia pronto a dirtelo. Quindi se stai vedendo questi segni saprai che è innamorato o si innamorerà di te anche se stai cercando di nascondere i sentimenti. E gli uomini potrebbero intenzionalmente cercare di nasconderti i loro sentimenti per almeno tre motivi. Potrebbe tenere nascosti i suoi sentimenti come tecnica di seduzione perché pensa di farti innamorare. Potrebbe, diciamo, nascondere i suoi sentimenti perché ne ha paura e perché si sente troppo vulnerabile. Oppure è preoccupato per poter ricevere un rifiuto quindi per insicurezza sua. Allora, quali sono sette segni nascosti da cercare che si sta segretamente innamorando di te? Il primo è quando ti guarda se ha della midriosi cioè la midriosi sono le pupille dilatate la dilatazione pupillare indica un coinvolgimento indica un innamoramento. La seconda è un po' di nervosismo quindi ad esempio se gli tocchi le mani se le mani tendono ad essere sudate è un altro segno che si sta coinvolgendo il sudore alle mani indica proprio questo. Un altro segno è che entra in mirroring con te cioè tende a rispecchiare un po' i tuoi movimenti tende a rispecchiare un po' i tuoi gesti è un altro segno molto interessante che si sta coinvolgendo che si sta innamorando di te. Altro segno è che sta diciamo tende quando è vicino ai tuoi confronti a petto in fuori diciamo così pancia in dentro quindi a manifestare a occupare spazio a fare il maschio alfa. Quinto segno è che cerca spesso un contatto fisico il contatto fisico è un segnale che comunque si coinvolge. Sesto segno è che ricorda tutti i dettagli che tu gli hai raccontato cioè ogni cosa che tu gli dici non è che passa così in cavalleria tra virgolette ma se la ricorda molto bene. Settimo segno importante è che trova tutte le scuse tutte le occasioni per parlarti per vederti per stare in tua compagnia. Ecco per questo video è tutto seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale se il video ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici ovviamente attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e quindi potrai farmi delle domande partecipando ad apposite live dove darò delle risposte precise alle tue domande. Ciao a tutti